buongiorno a tutti eccoci qua solo un breve saluto in italiano e passiamo immediatamente all'inglese sono paola antonelli alice rosson accanto a me siamo felici orgogliose di essere ancora una volta a milano ora passo immediatamente all'inglese siamo felici che ci siano anche che molte persone collegate 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 online il satellite torna insieme al salone perché non è il salone poi il satellite è il satellite e poi il salone siamo di nuovo qui ospiti di milano ma soprattutto di marva griffin la fondatrice del salone satellite e oggi siamo qui per presentare un lavoro d'amore un lavoro d'amore di passione che alice e io abbiamo fatto insieme che si chiama design emergency è una piattaforma di ricerca è anche un libro e alice ve ne parlerà meglio grazie paola grazie a tutti voi per essere venuti a tutti coloro che si sono collegati ora design emergency come dice paola è un lavoro d'amore per entrambe ed è iniziato all'inizio della pandemia quando paola ed io come amiche ci siamo messi in contatto facendo uno zoom per recuperare il tempo perduto una delle cose sulle quali ci siamo concentrate è stato il modo in cui il design stava emergendo come una rara storia di fortuna durante la pandemia in un momento in cui le persone sapevano così poco del covid 19 e della minaccia che stavamo affrontando i design hanno risposto in modo generoso coraggioso ingegnoso producendo soluzioni queste sono state riprese dai media paola ed io abbiamo pensato che questo avrebbe potuto cambiare le carte in tavola per il design se le persone avessero capito l'impatto costruttivo e significativo che stava avendo in un momento di emergenza globale bene avrebbero guardato al design in un modo molto diverso avrebbero compreso il suo valore come strumento sociale politico ecologico per affrontare altre grandi crisi pertanto abbiamo iniziato design emergency come piattaforma instagram inizialmente per intervistare le persone che ritenevamo fossero i leader del design globale durante la pandemia del covid 19 ma poi l'abbiamo allargata ai leader del design globale del futuro paola il modo in cui abbiamo scelto il design è naturale entrambe guardavamo ciò che stava accadendo nel mondo e abbiamo questa passione come diceva aless nel cercare di spiegare a quante più persone possibile quanto importante sfaccettato sia il design aless stava già lavorando a un meraviglioso feed instagram che sicuramente conoscete bene e aveva iniziato una ricerca davvero completa abbiamo avuto qualche problema col clicker ora col puntatore magari un tecnico può venire ad aiutarci perché abbiamo delle diapositive fantastiche bene è stato sorprendente vedere quello che stava succedendo in tutto il mondo abbiamo cominciato con michael murphy grande architetto e possiamo e e possiamo beh sta funzionando altrimenti potete cambiare voi stessi le diapositive possiamo riprovare aless possiamo riprovare puoi riprovare tu no bene magari potete cambiarle voi stessi bene stavamo analizzando ciò che stava accadendo nel mondo aless stava già iniziando questa straordinaria ricerca la prima persona che abbiamo intervistato che anche la persona che abbiamo intervistato due settimane fa per celebrare il lancio del libro è michael murphy ecco ci siamo sembra che funzioni vedete è un'indagine sulla risposta del design al covid 19 e questo era il sottotitolo iniziale poi si è voluto michael murphy è stato il primo architetto specializzato in sistemi sanitari e poi ad esempio alessa eckert insieme a dan higgins ha disegnato il marchio del coronavirus la mina anti uomo la mente profonda che tutti conosciamo come immagine del covid e poi ci siamo rivolti ai design sia ai professionisti che a quelli occasionali perché addirittura abbiamo avuto il professore marco ranieri dal policlinico di bologna che ha progettato un modo per sdoppiare il ventilatore e permettere di salvare più persone in condizioni di emergenza è stato naturale guardarsi intorno almeno per noi perché abbiamo imparato a individuare il grande design ovunque si trovi e a riunire questi grandi esempi per offrirli al mondo affinché il mondo possa comprendere il potere del design il puntatore non funziona il clicker non funziona è possibile passare alla slide successiva questi sono i progetti di cui paolo appena ha parlato la griglia per le nostre interviste covi 19 e la prossima diapositiva per favore eccellente dunque dopo otto settimane in cui ci siamo concentrate sulla risposta del design al covid era l'inizio estate 2020 siamo passati a quello che era l'obiettivo principale di design emergency e l'obiettivo specifico del libro indagare il ruolo del design nel riprogettare e ricostruire radicalmente le nostre vite per costruire un futuro migliore se si guarda alle emergenze storiche dalle grandi pestilenze alle guerre mondiali quasi sempre hanno catalizzato cambiamenti significativi nelle società e nelle ecologie eravamo assolutamente convinti che il covid 19 avrebbe potuto cambiare le cose nello stesso modo abbiamo ritenuto che il nostro ruolo e la nostra responsabilità di campioni del design fossero quelle di mostrare esempi di leader che stavano già sperimentando soluzioni pratiche ai problemi profondamente complessi e intersecanti che le persone si trovano ad affrontare in tutto il mondo pensavamo che fornendo esempi pratici del lavoro che stavamo svolgendo avremmo convinto le persone del potere del design di aiutarci a costruire un futuro migliore di darci speranza e ottimismo in un momento ancora molto confuso caotico e naturalmente tragico e terribile per molte persone abbiamo stilato un elenco dei principali problemi che abbiamo dovuto affrontare emergenza climatica la crisi dei rifugiati degli alloggi dei senza tetto la crescente disuguaglianza l'aumento delle intolleranze del bigottismo abbiamo analizzato gli abusi della tecnologia la crescente tecnofobia ma anche le opportunità che il design stava creando la disponibilità di intelligenza open source e di altri nuovi strumenti di progettazione che stavano consentendo ai design davvero ingegnosi di sperimentare in modi molto diversi abbiamo quindi individuato i designer che ritenevamo assolutamente all'avanguardia negli sviluppi in tutti questi ambiti citati li abbiamo contattati abbiamo cercato di convincerli a farsi intervistare da noi su design emergency e quasi tutti hanno accettato prossima diapositiva per favore potete apprezzare la varietà di design che abbiamo avuto oggi vi parleremo solo di sei di loro ma la gamma è stata davvero molto ampia alcuni sono noti come forma fantasma ovviamente chi non conosce forma fantasma in questo tipo di arena alcuni potrebbe essere noti come Xu Tian Tian ma ci sono stati anche designer come Hillary Cotton che sono più specializzati in una forma di design che potrebbe non essere nota a tutti ma che dovrebbe esserlo è stata dunque una grande opportunità per mostrare il più possibile l'atmosfera e il panorama del design inoltre una volta alla settimana abbiamo avuto degli interventi su alcuni temi della settimana idee e cose che avevamo imparato e che erano collegate al tema del design emergency e quando si sono verificate altre emergenze del mondo ad esempio l'esplosione a Beirut o incendi in California o la crisi di Black Lives Matter abbiamo chiamato alcuni esperti proprio per discutere di questo particolare argomento e per far conoscere meglio non soltanto l'emergenza in questione ma anche l'evoluzione della risposta del design vi parlerò ora del nostro primo esempio come ha detto Alice abbiamo scelto persone che hanno risposto ad alcune emergenze in modo davvero creativo e innovativo una di queste è stata Neri Oxman Neri Oxman è un architetto che vive negli Stati Uniti lavorava al MIT ed era docente ora ha aperto una sua azienda si chiama Material Ecology il suo atteggiamento nei confronti del design è sempre stato quello di cercare di unire design organico attenzione alla natura alla computazione anche una scienziata che si occupa di design e computazionale e di elementi naturali come entità naturali vera e propria potete vedere i bacchi da seta e li unisce Neri ha sempre pensato che la computazione quindi i progressi che sono stati apportati oggi dalla tecnologia digitale potrebbero essere un modo per raggiungere il santo graal come design che è quello di cercare di non limitarsi a imitare le forme della natura ma di comportarsi effettivamente come la natura si comporta la natura lo fa meglio, crea meglio, usa meglio e muore e distrugge meglio e questo è ciò che rappresenta gran parte del lavoro di Neri il tentativo di costruire nuovi processi e nuovi materiali che si comportino davvero come la natura che abbiano cicli di vita che alla fine tornino alla natura quello che vedete qui è uno dei suoi padiglioni di seta utilizzando il calcolo e studiando il comportamento dei bacchi da seta insieme al suo grande team prima al MIT e ora nella sua azienda ha trovato un modo per sfruttare il lavoro naturare il ciclo di vita naturale dei bacchi da seta in modo che insieme esseri umani e bacchi da seta possano costruire nuove strutture che alla fine potrebbero aiutarci a costruire nuovi edifici forse non dovrei dire costruire ma far crescere nuovi edifici lascio la parola ad Alice per il prossimo esempio grazie Paola abbiamo cercato di rendere tutte le interviste le ricerche fatte per design emergency il più possibile diverse, eclettiche, inclusive questo ovviamente in termini di genere patrimonio, geografia, disciplina ma anche di scala dei progetti e del tipo di pratica progettuale che incarnavano questo è uno dei miei esempi preferiti di un'impresa di design veramente epica e può sembrare all'inizio un uso poco ortodosso del design ma se lo consideriamo in termini di applicazioni strategiche del design ha perfettamente senso questa è una parte di quella che viene chiamata la grande muraglia verde dell'Africa si tratta di un progetto colossale che intende affrontare uno dei più gravi problemi psicologici del nostro tempo, ovvero la siccità che ha distrutto vaste aree del margine meridionale del deserto del Sahara si tratta del margine inferiore della regione del Sahel che si estende per 5.000-8.000 km da una costa africana all'altra dal Senegal sulla costa occidentale a Djibouti sulla costa orientale questo progetto è tipico, credo, dei progetti intersettoriali molto complessi che la progettazione abbraccerà sempre di più in futuro ed è a lungo termine, non si tratta di una soluzione rapida il margine meridionale del Sahel è una delle regioni più aride calde e povere del mondo assolutamente sull'orlo dell'emergenza climatica nelle 2007 più di una dozzina di paesi africani si sono riuniti sotto legida dell'Unione Africana per sviluppare la grande muraglia verde un modo strategico per rinvigorire quel paesaggio perché quello che è iniziato come un problema ecologico di siccità ha poi causato altri problemi ambientali desertificazione, deforestazione, erosione del suolo ma poi ha causato profonde sfide socio-economiche carestie, povertà, conflitti bellici problemi di approvvigionamento migrazione di massa dall'area con tutti questi problemi che si sommano agli altri è iniziato come un progetto di ripristino della terra di cui ora fanno parte 21 paesi della regione e la sfida per tutti loro è proprio quella di ripristinare i terreni degradati in tutta l'area per renderli nuovamente fertili questa è un'area che si trova in Senegal in parte del Niger il Senegal è stato molto all'avanguardia con un programma di piantumazione di alberi di grande successo la Nigeria e Burkina Faso si sono concentrati sul reinventare inventare pratiche agricole tradizionali per accelerare il ripristino delle terre ci sono stati problemi colossali questa è una parte del mondo così fragile e vulnerabile l'Etiopia ad esempio è stato uno dei paesi che ha fatto sicuramente maggiori progressi fino allo scoppio della guerra civile due anni fa ed allora i suoi progressi si sono stabilizzati ma all'inizio dello scorso anno un consorzio guidato dal governo francese dalla Banca Mondiale ha deciso di donare 14,5 miliardi di dollari alla grande muraglia verde e ha successivamente raccolto altri 5 miliardi questo denaro dà alla grande muraglia verde la possibilità di raggiungere il suo obiettivo di completamento entro il 2030 con la creazione di 10 milioni di nuovi posti di lavoro verdi un esempio straordinariamente complesso e problematico ma di ispirazione di design su scala epica prossima diapositiva Federica Fragapane è il nostro prossimo esempio di oggi per alcuni di voi potrebbe essere un'entità una persona già nota ha sede a Torino non a Milano ma ha lavorato molto con il Corriere della Sera in particolare con la lettura rappresenta una nuova bellissima e importante branca del design che è la visualizzazione dei dati e delle informazioni giusto per darvi una breve introduzione su questo argomento e su questa disciplina che è così centrale nella nostra vita di oggi più progressi computazionali che ci sono stati presentati più siamo in grado di sfornare dati che a volte sono massicciamente numerosi abbiamo bisogno di strumenti per navigare in essi la visualizzazione è uno dei più potenti quindi cifre, lettere, vari elenchi puntati possono andare e venire ma le immagini rimangono per sempre impresse nel nostro cervello e non solo il design della visualizzazione è un modo per spiegare ma anche per far ricordare alcune verità che altrimenti rimarrebbero offuscate quella che vedete qui è una particolare visualizzazione che Federica ha fatto con Fondazione Organizzazione No Profit lei vi lavora molto spesso è una visualizzazione che ha fatto per evidenziare le morti in Brasile di attivisti che sono stati uccisi da entità sconosciute perché stavano lottando per salvare l'Amazzonia anche in questo caso è uno scandalo, un oltraggio che tante persone innocenti vengano uccise perché cercano di salvare quello che è il patrimonio del pianeta ma senza un design di visualizzazione che dipinga le loro morti come queste fiamme rosse o petali rossi questi fiori tragici che rimangono memorizzati impressi nella nostra mente forse dimenticheremmo il modo in cui abbiamo scoperto Federica è che aveva lavorato con la Fondazione Surgo a Londra e a Washington DC per creare un nuovo indice di vulnerabilità per il Covid-19 si tratta di un indice che identifica diverse città o diverse regioni del mondo che potrebbero essere più vulnerabili che è una pandemia a causa di diversi tipi di dati dalla presenza di sistemi sanitari locali a livello del background del background sociale delle persone che lavorano e vivono in quella particolare area e c'era un indice ufficiale ma la Fondazione Surgo ha trovato nuovi modi per renderlo ancora più chiaro e vicino Federica ha visualizzato quell'indice ma forse vi farà anche piacere sapere che Federica è stata poi chiamata da Marva per realizzare la mappa rosa ufficiale del salone e del salone satellite forse anche nelle vostre mani e nelle vostre borse Federica parlerà anche a Milano domani all'IKEA Center nel caso voi foste nei paraggi parlerà con Emilia Terragni che è editore del nostro libro grazie ora una domanda che molti giovani designer si pongono è se saranno in grado di usare il loro lavoro di designer per affrontare le loro cause sociali politiche ed ecologiche le cause preferite e continuare a guadagnarsi da vivere si trattava di una questione che dovevamo affrontare direttamente in design emergency e un ottimo esempio di designer che ha affrontato la questione brillantemente è Ilse Crawford designer di interni e di prodotti con sede a Londra che dirige la società di consulenza multidisciplinare Studio Else Studio Else è una tradizionale società di consulenza commercial design tranne per il fatto che ha un notevole successo lavora a progetti importanti per clienti multinazionali come Ikea Carl Hansen e Hermann Miller ma si diverte sempre con i valori umanistici ed ecologici che sono assolutamente al centro di tutto il lavoro di Else perché lei vede il design in tutte le sue molteplici manifestazioni compreso il design di interni di prodotto le sue specialità come uno strumento per migliorare il nostro benessere individuale collettivo e per nutrire la nostra ecologia non scende mai a compromessi con questi principi dimostra che possono avere un grande valore commerciale per i suoi clienti si occupa anche di lavori per gruppi non profit e questo bellissimo spazio di ristoro è l'erefettorio Felix nell'East London era una vecchia sala di una chiesa molto malandata che Else e il suo team hanno trasformato in una bellissima e vivace cucina comunitaria ha riscosso un tale successo che l'associazione che la gestisce ora è finanziata dagli affitti che riceve affittando questa splendida sala per feste dalle raccolte di fondi e così via dopo l'orario di lavoro e un altro progetto realizzato per un'associazione no profit è stato l'Anna Freud Center che si occupa dei problemi di salute mentale per bambini sempre a Londra nel corso di una carriera molto ecletica Else è stata per vent'anni redattore fondatore di Al Jack Reis che è insegnante molto influencer della Design Academy di Anteven e del suo studio studio Else ha sempre messo in pratica ciò che predica dimostrando che un buon design può essere utile agli affari secondo un vecchio cliché prossima diapositiva per favore ci sono altre discipline che si sono affermate da secoli come il tipo di design praticato da Else Crawford ma che possono anche avere nuovi risvolti l'architettura da sempre l'architettura è legata agli edifici spesso ai monumenti è stata una professione prevalentemente maschile e di solito si è trattato di imporre o di dare alle persone ciò che pensavano di volere ebbene Xu Tian Tian architetto donna con sede a Pechino con la sua società DNA Architecture sta capovolgendo la situazione il suo modo di praticare l'architettura prevede sempre di lavorare con la comunità scoprire ciò di cui la gente non solo ha bisogno ma vuole anche e si spera di lavorare con loro per creare spazi che siano comuni che siano anche disponibili per molte funzioni e possibilità diverse Tian Tian ha lavorato prevalentemente nella Song Yang Valley a sud di Shanghai una regione montuosa composta da oltre 400 piccoli villaggi ogni villaggio è una comunità ogni villaggio ha una specialità una specializzazione una tradizione di cui va particolarmente fiero di cui orgoglioso uno specializzato nella produzione del tofu un altro di zucchero da canna estratto da canna un villaggio ha una compagnia teatrale molto molto villace e prolifica in questo caso particolare si tratta di un esempio di tipo del lavoro svolto da Tian Tian hanno creato un teatro semplicemente piegando gli alberi di bambù esistenti in una tettoia che creasse uno spazio e questo teatro è stato montato in tre giorni ed è diventato il cuore centrale di questo villaggio quello che Tian Tian fa con la comunità beh lo chiama agupuntura architettonica si tratta di trovare l'intervento architettonico minimo più semplice per attivare e dare dignità e significato a un intero villaggio ci sono fabbriche di tofu fabbriche di zucchero di canna che in regioni a momenti diversi dell'anno diventano spazi sociali è un modo per fare architettura che sta ispirando le giovani generazioni in tutto il mondo prossima slide è meraviglioso vedere lavori come quelli di Tian Tian che superano gli stereotipi della Cina contemporanea sì naturalmente che sono in grado di far capire che la Cina non è un'isola e un altro design è un altro dei preferiti di Marwa che combatte gli stereotipi e la stigmatizzazione è il grande illustratore di Brooklyn Mohammed Fayad è nato nel vicino Queens da una famiglia andiana musulmana e ha dedicato la sua vita lavorativa a documentare la vita della sua comunità di persone trans e queer di colore quindi potete vedere a sinistra dello schermo uno dei manifesti della festa di Papi Juice un collettivo artistico di cui Mohammed è direttore creativo e sulla destra dello schermo una parte del lavoro attivista di Mohammed e il design attivista è sempre stato una delle aree più ricche provocatorie e potenti anche della pratica del design Mohammed ha interpretato questo ruolo storico del design in modo molto contemporaneo attraverso il suo lavoro per gruppi di attivisti come Brooklyn Liberation il New York Anti-Violence Project e si tratta di un progetto realizzato durante la pandemia per le vite dei trans neri e se si osservano i volti dei manifesti si capisce quanto il lavoro di Mohammed sia sempre visivamente affascinante e seducente io l'ho scoperto su Instagram sono rimasta tratta in modo del tutto superficiale poi mi sono resa conto di quanto siano potenti e sottili i messaggi politici perché si tratta di una comunità di persone che vengono spesso trattate in modo stereotipato e raggruppate in qualche modo in una massa amorfa e Mohammed si concentra invece sempre sulle sottigliezze le sfumature le eccentricità l'arguzia l'allegria l'estremità le fragilità sempre con piccoli deliziosi colpi di scena come l'hamburger la bevanda fresca mostrando che si tratta di un barbecue a base di succo di papi in una giornata molto calda e soleggiata una meravigliosa giunta che sta facendo molto per sensibilizzare l'opinione pubblica e politica sulle singole emergenze per cambiare l'opinione pubblica come vi dicevo prima volevamo davvero poter parlare delle emergenze in arrivo anche dopo la prima fase dell'emergenza Covid-19 dopo che si era esaurita e ce n'è una ogni giorno in questo momento stiamo vivendo nel bel mezzo di una guerra qui in Europa mentre in altre parti del mondo sono in corso guerre e emergenze si sovrappongono l'una all'altra noi riteniamo che tutte queste emergenze siano collegate tra loro vogliamo essere in grado di affrontarle davvero non appena si presentano abbiamo parlato di emergenze come Black Lives Matter dell'esplosione di Beirut vogliamo continuare ad affrontarle naturalmente la vita del mondo è complessa le dinamiche geopolitiche che si verificano richiedono competenze specifiche come ha detto Alice all'inizio questa è una piattaforma di ricerca non è un progetto chiuso e ci piace ricorrere ai esperti ogni volta che non ne sappiamo abbastanza sull'argomento in questione e questo è anche ciò che fanno i design i design stanno molto bene cosa non sanno ed è questo che sono in grado di fare chiamano le persone di cui hanno bisogno per portare a termine un progetto e speriamo di avere sempre accesso agli esperti di cui abbiamo bisogno per discutere di tutti i diversi argomenti la la diapositiva successiva mostra il nostro bellissimo libro design emergency lanciato solo un paio di settimane fa qualcosa di cui siamo molto orgogliosi non appena abbiamo lanciato design emergency il libro è rimasto una piattaforma instagram prevalentemente è stato lanciato esclusivamente su instagram perché è un mezzo molto flessibile ci ha permesso di raggiungere un vasto pubblico le persone hanno iniziato a chiedersi se avremmo fatto un libro molto presto nel progetto ma abbiamo deciso che avremmo fatto un libro solo se avessimo creduto che avrebbe raggiunto un elemento in più che avrebbe completato il nostro lavoro online con lo sviluppo di design emergency e come ha detto Paola beh è stato molto spontaneo è stato molto organico è stato un progetto di emergenza tra amici durante una pandemia abbiamo sentito abbiamo intervistato così tante persone incredibili che sono state generose con il loro tempo energia le loro idee abbiamo raccolto ricerche informazione una risposta fenomenale che ci ha toccato e commosso devo dire profondamente abbiamo capito che se avessimo trovato un modo per utilizzare i nostri contenuti e crearne di nuovi per un libro avremmo davvero arricchito il progetto e lo avremmo portato reso accessibile a un pubblico molto più ampio rispetto a quanto avremmo fatto solo su Instagram stavamo scrivendo dei saggi introduttivi anche per contestualizzare tutti i singoli progetti e quindi abbiamo deciso di presentare le informazioni in modo più ampio e in modo più completo per aiutare le persone a interpretare il lavoro dei singoli designer in modo diverso e grazie al riperimento di questi lavori ci siamo resi conto che sarebbe stata un'esperienza ricca e diversa per loro e quindi abbiamo aggiornato e ampliato 25 delle interviste che avevamo condotto nel libro dividendolo in 4 sezioni tecnologia società comunicazione ed ecologia e come ho detto abbiamo iniziato con saggi contestuali siamo stati molto fortunati ad avere una prova generale perché nella prima estate di Design Emergency che incredibilmente ha ormai più di due anni un po' come avere un bambino super energetico da acudire beh World Paper Magazine ci ha contattate ogni anno hanno un guest editor per il numero di ottobre volevano fare qualcosa di speciale durante la pandemia e quindi hanno invitato me e Paola a curare il numero come Design Emergency è stata una sorta di prova generale per il libro era incentrato sulle interviste del Covid mentre il libro si concentra molto sulla costruzione di un futuro migliore sulle sfide a lungo termine per il design ma ancora una volta la risposta è stata così fantastica ci siamo resi conto che potevamo davvero realizzare un libro di cui essere orgogliose e che avrebbe aggiunto qualcosa in più al progetto e spero sarete d'accordo se lo leggerete beh diteci qual è la vostra emergenza ce n'è sempre una anche il satellite parla di un'emergenza magari una soft però ce ne sono di veloci ce ne sono di urgenti alcune sono in corso abbiamo giudicato e abbiamo giudicato i premi satellite si trattava di design per il nostro futuro e per gli anziani si trattava di riciclare di cercare di evitare di riempire le discariche oltre la loro capacità ci sono emergenze grandi emergenze piccole e continueremo ad andare avanti perché ci sarà sempre un'emergenza del design e continueremo ad andare avanti perché il design sta diventando sempre più centrale nel modo in cui affrontiamo il nostro futuro il design è una rivoluzione nella vita aiuta le persone ad affrontare cambiamenti e aiuta le persone a realizzare quei cambiamenti quando sono necessari crediamo davvero che nel nostro ruolo di designer abbiamo un ruolo centrale nel futuro e siamo felici di vedere tanti di voi giovani meno giovani lavorare davvero al meglio delle proprie capacità per presentare nuove idee ci sarà sempre un design emergency e Alice e io speriamo di poter continuare questo progetto con tutti questi mezzi aspetti diversi finché avremo passione nel cuore e fiducia nel design vi ringraziamo molto in particolare ringraziamo Marva Marva ti dispiacerebbe venire a salutare il tuo pubblico perché abbiamo iniziato senza di te a causa del collegamento in diretta ma tu sei sempre così centrale in tutto questo e poi ci saranno domande da parte del pubblico quindi ah hai regali per noi ma no ti prego no che cosa sono vieni qua Marva vogliamo che il pubblico internazionale ti veda questo è un è un pensiero di sostenibilità questo è per Paola sì ha un nome grazie grazie perché non perché non ti siedi no no non mi siede non mi siedo sto in piedi che cosa devo dire beh grazie sono così felice e come posso dire beh sono orgogliosa di avere queste due guru del design guarda che ti hanno portato una sedia così puoi sederti anche tu le signore del design qui al salone satellite è un evento davvero importante sono molto molto felice Paola gli italiani devono essere orgogliosi di questa signora che va in giro per il mondo evviva per il design e Alice la signora numero uno del design che ho conosciuto anni fa quando era la prima direttrice del design museum di Londra sono molto molto felice di avervi qui quindi se avete domande beh sì loro saranno molto felice di rispondervi non siate timidi altrimenti se dopo la conferenza vi presenterete con delle domande non vi risponderemo quindi chiedete ora o mai più in realtà mentre pensate alle domande beh c'è c'è una domanda c'è una domanda oh bene perfetto c'è un microfono la signora laggiù grazie ciao Paola dove possiamo trovare il libro in Italia grazie dove possiamo trovare il libro ottima ottima domanda sì per chi è qui al satellite non abbiamo potuto portare il libro qui per questione legale ma c'è una libreria a feltrinelli qui al salone potete acquistarlo lì al padiglione 15 dove si trova l'importante mostra del salone del mobile l'installazione design by nature dell'architetto Mario Cucinella e accanto c'è lo spazio della feltrinelli dove è possibile acquistare il libro va bene sì visto padiglione 15 ci sono altre domande sì buongiorno saluti dalla Spagna lei parla del design come come forma per cambiare il mondo e a volte per cambiare le cose più importanti bisogna andare contro l'establishment il governo e tutto il resto pensa che il design sia un atto rivoluzionario scusi puoi ripetere la parte finale se pensiamo al design come atto rivoluzionario beh assolutamente sì ed è anche un catalizzatore di cambiamenti radicali a molti livelli e su molte scale diverse un esempio eccellente è il lavoro dell'architettura forense fondata dall'architetto israeliano Eyal Weissman oltre dieci anni fa ed allora attiva a Londra l'architettura forense ha inventato un filone completamente nuovo del design e dell'architettura utilizzando metodologie e strumenti di design e architettura e la nuova intelligenza open source che si è rivelata così utile per identificare ad esempio i crimini di guerra russa in Ucraina persone che scattano immagini fisse in movimento con i loro telefoni utilizzando telecamera circuito chiuso filmati dei droni e così via per monitorare quelle situazioni pericolose sovversive difficili e tragiche l'architettura forense ha reinventato il design come strumento di giustizia sociale riparativa per indagare su ciò che è accaduto sulle scene del crimine che si tratti di crimini di guerra crimini contro i diretti umani crimini climatici per stabilire verità e assicurare giustizia e risarcimento alle vittime penso che questo sia un esempio fantastico di design rivoluzionario che è rivoluzionario sotto tutti gli aspetti nel suo intento nelle sue tecnologie nella sua applicazione di impatto ci sono sempre più esenti di questo tipo nel design il design sta diventando un mezzo sempre più elastico eclettico e fluido è in grado di adattarsi a situazioni mutevoli e di trovare rapidamente soluzioni reali come l'open source intelligence e questi strumenti di giustizia riparativa il design può essere rivoluzionario e sì dovrebbe esserlo lo è stato nel corso della storia dovrebbe esserlo ora e in futuro grazie qui buongiorno da Elle Decoration Vietnam grazie per la significativa chiacchierata come ha detto lei ci sarà sempre un design emergency un'emergenza del design quale pensa che sarà il prossimo passo di questo progetto mi piacerebbe magari in futuro vedere più storie più belle storie come questa devo solo seguire instagram come pensate che evolverà alla fine questo progetto in questo momento siamo ancora su instagram design punto emergency e oltre alle 25 interviste del libro ne abbiamo fatte più del doppio siamo a oltre 70 e ci sono storie meravigliose che non abbiamo incluso nel libro perché nel libro c'è sempre un momento di lavoro per esempio per il lancio del libro il 25 maggio come ho già detto abbiamo reintervistato nuovamente Michael Murphy ma abbiamo anche avuto altre conversazioni con designer architetti che vanno al di là dell'epidemia della pandemia quindi pensiamo di continuare continueremo abbiamo in programma interviste per la prossima settimana e per quella successiva magari una pausa durante l'estate e poi rivaluteremo se la piattaforma è giusta se dobbiamo scrivere il libro fare un podcast youtube beh non avremo limiti e le nostre capacità umane sono limite perché come vi dicevo è un lavoro d'amore ma ci vuole anche molto lavoro per produrre cose così belle non è solo nostro il merito è anche del nostro editore del nostro grafico Fritker e dei suoi collaboratori dello studio Frit quindi non è facile ma ne vale davvero la pena pensiamo che continueremo ad andare avanti per un bel po' finché ci sarà un'emergenza design noi ci saremo ma in realtà siamo spenti a guardare anche altre vite di Instagram che sono raccolte nel canale video del nostro feed Instagram li trovate sono avvincenti alcuni più di altri ma sono sempre molto profondi una delle persone ad esempio che abbiamo pensato di citare oggi Francesca Coloni che parla dei campi profughi penso che si possa parlare di molte cose quindi la cosa migliore sarebbe quella di andare su Instagram per favore continuate grazie la signora con la giocca verde Agnuska buongiorno mi chiamo Agnuska vengo dalla Polonia e vi seguo come Paola e Alice davvero dall'inizio avevo la stessa domanda della mia collega ma magari potrei approfondire avete pensato ad esempio di parlare con le scuole di design per introdurre una materia come design emergency perché credo che abbiate proposto qualcosa di molto importante e abbiate risposto a un bisogno profondo di parlare di design in un modo un po' diverso beh entrambe parliamo spesso nelle scuole di design e siamo coinvolti nei crit e così via c'è stato un enorme interesse per design emergency abbiamo ottenuto molte conferenze quest'anno sarò alla Royal Society of Art e gli studenti gli studenti vogliono sapere di più a proposito di questo progetto noi siamo entusiasti della risposta a quanto abbiamo fatto e speravamo all'inizio che collettivamente avremo mostrato quanto possano essere diverse la pratica e le possibilità del design un adolescente potenzialmente interessato a una carriera nel design si renderà conto che ci sono tanti modi diversi per praticarlo per approcciarlo e in particolare per inserirlo per incorporarlo nelle cose che gli stanno davvero a cuore che si tratti di emergenza climatica di crisi dei rifugiati o di altro ma ciò che è stato affascinante vedere negli ultimi anni prima che lanciassimo design emergency ma da allora devo dire quanto rapidamente siano cambiate le scuole di design a livello internazionale c'è sempre meno interesse per le discipline tradizionali del design mentre altre pratiche altre discipline si sono espanse sono rimasta davvero colpita dalla rapidità con cui le scuole di design hanno cambiato i loro programmi di studio per abbracciare queste nuove idee per esempio lunedì sarò ad Eindhoven alla Design Academy Eindhoven nei Paesi Bassi e sarò esaminatore ospite per l'esame finale del Master in Geodesign che è stato lanciato da Andrea Trimarchi e Simone Farresin di Forma Fantasma due anni fa l'idea è che se i design vogliono impegnarsi in queste complesse sfide intersezionali politiche sociali ambientali devono avere una comprensione più sofisticata del contesto politico e alla fine Geodesign si concentra esattamente su questo aspetto ovviamente ho avuto un'anteprima di tutte le tesi degli studenti è stato assolutamente affascinante leggerle e vedere in modi così drammaticamente diversi in cui hanno usato il design come lente per interpretare questioni politiche e culturali che sono molto complesse e molto controverse credo che le scuole design faranno sempre di più se posso aggiungere qualcosa Alice ha perfettamente ragione ma non so se il design emergency debba essere una disciplina unica perché è naturalmente trasversale ed è meglio darlo come obiettivo come focus rispetto a darlo come elemento del curriculum didattico la penso in questo modo sono appena stata una dei critici ospiti a Princeton tema era potere si trattava di emergenza anche in quel caso beh noi potremmo continuare ci sono talmente tanti temi argomenti che vengono affrontati con questo particolare approccio trasversale del design emergency grazie altre domande c'era una signora qualcuno ha alzato le mani ah si ecco la signora al centro troppo timida grazie mi chiedo uno dei modi per andare avanti con tutto questo potrebbe essere operare a livello locale ma condividere a livello globale non so se ha letto Flourish di Michael Poling mi interessa il concetto di coscienza planetaria il modo in cui ci allontaniamo dagli stati nazionali per affrontare questo globale ovviamente è chiaramente un problema globale gli stati nazionali si preoccupano del PIL ma è l'opposto di quello a cui dovremmo pensare quindi come fa il design come possono lavorare a livello macro politico più ampio magari lei non ha tutte le risposte ma cosa ne pensa beh una delle cose affascinanti del design e forse anche uno dei suoi limiti in quanto ha proprio la capacità ovvero se si pensa al design alimentare come un agente di cambiamento che può aiutarci a garantire che i cambiamenti di qualsiasi tipo siano interpretati positivamente piuttosto che negativamente beh il design può entrare in qualunque ambito ma deve essere autorizzato a farlo negli ultimi anni e questo problema si è attenuato le tecnologie digitali sono diventate accessibili convenienti hanno permesso il design di operare in modo più indipendente autonomo raccogliere fondi per finanziare i propri progetti ecologici politici e sociali sono stati in grado in qualche modo di diventare dei self starter laddove lo hanno desiderato ma per operare su scala massiccia come ad esempio l'esempio della grande muraglia verde dell'Africa beh è necessario che i progettisti siano responsabilizzati oltre che impegnati i designer otterranno questa responsabilizzazione solo se la meritano i progettisti come gli specialisti di ogni altro settore devono accettare che se vogliono essere più ambiziosi se vogliono lottare con queste complesse ed enormi sfide del nostro tempo con un potere maggiore devono sapere arriva una maggiore responsabilità e ogni volta che uno di questi progetti poi epici fallirà beh sarà difficile per altri designer assicurarsi il sostegno politico l'approvazione pubblica di cui hanno bisogno ad esempio per portarli avanti mentre ogni successo renderà tutto un po' più facile quello che cerchiamo di fare con Design Emergency con questa grande varietà di progetti e di forme diverse di pratica del design beh è proprio quello di mostrare che i designer operano a qualsiasi scala che si tratta di strateghi del design di sostenitori che lavorano a progetti come la grande muraglia verde dell'Africa o che sia Xutiantian un architetto individuale che lavora in una regione rurale oscura della Cina con i suoi interventi di agopuntura nelle comunità rurali quindi un lavoro molto più intimo se vogliamo è tutto prezioso ed è tutto incredibilmente importante questa è un'epoca fenomenale di sperimentazione del design in cui i progettisti hanno opportunità e possibilità mai avuto prima questa è una cosa meravigliosa ma dipende dai design dalla qualità della loro produzione se continuerà o meno se il design che viene realizzato è intelligente anticipatore riflessivo sensibile responsabile allora è molto facile per me sventolare questi aggettivi ma è così difficile realizzarsi ma se riuscirà a realizzare tutte queste cose allora entreremo in un'età dell'oro della sperimentazione progettuale è affascinante quando parliamo con persone come Hilary Cotton che ha iniziato come scienziata sociale poi si è convertita al design è stata un po' la pioniera dei progetti design sociale in realtà si occupa di questioni di scienza sociale di assistenza agli anziani come aiutare i disoccupati di lunga durata a tornare al lavoro come affrontare la scarsa qualità degli alloggi e così via beh lei dice che uno dei motivi che l'hanno spinta a prototipare nuove soluzioni a questi problemi è che nei circoli politici si è diffusa l'idea che le vecchie metodologie del ventesimo secolo non siano in qualche modo più adatte allo scopo le persone in questi campi sono molto più interessate a sperimentare e vedono il design come un mezzo più agile e fluido che può davvero aiutarli e Flourish è un libro meraviglioso di Sara Ichioca e Michael Pauling è pieno di esempi fantastici di progetti che sono proprio così Amen e vorrei anche aggiungere un progetto che potreste trovare interessante dalla nostra collega Jane Widges Biennale Bio 29 di Ljubljana si chiama Super Vernaculous e in qualche modo parla di questa dimensione intima di cui ha parlato Alice proprio come alternativa alla dimensione massiva quindi sono tutte scale in un certo senso sì cercare di aggirare lo stato nazionale sembra essere l'obiettivo di tutti questi designer e attivisti e politici che lavorano a questi livelli diversi se non ci sono più domande no ce n'è una un'ultima sì grazie beh in questo periodo di così tante sfide cos'è che vi rende fiduciose ognuna di voi io devo dire che il design mi fa sperare per quanto la pandemia sia stata tragica e terribile per tutti devo dire che l'impegno con design emergency beh perché ovviamente Paola e io eravamo già grandi amiche prima della pandemia e grazie a design emergency lo siamo ancora di più cosa che non avrei mai pensato fosse possibile è stato bello collaborare con lei e sfidarci l'un l'altra e così via ma anche avere a che fare con straordinari designer architetti ingegneri codificatori illustratori e altri con cui abbiamo parlato persone così coraggiose fantasiose piene di risorse resistenti non si sono mai rassegnate hanno sempre trovato soluzioni costruttive grazie a loro che design emergency è interessante tutto quello che facciamo è dare loro una piattaforma per il loro lavoro sono una persona naturalmente ottimista credo che sia questo il motivo per cui sono attratta dal design mi piace pensare che ci sarà sempre una soluzione e sono così orgogliosa di confrontarmi con questo straordinario mezzo di comunicazione che cambia continuamente non si può mai diventare compiacente se ci si impegna in questo campo perché i problemi sono profondi e difficili per molte persone e su scale diverse quindi una fonte inesauribile tutto questo di speranza e ottimismo beh cos'altro posso aggiungere beh io sono pessimista invece ma il design mi dà speranza e mi sento un vampiro ogni volta che mi sento esaurita e il sole mi sta uccidendo beh vado da qualche grande designer e in qualche modo vado a succhiargli la vita è vero tutto questo è vero il design ci dà speranza perché anche senza pensare che possa cambiare il mondo da solo sappiamo che può aiutare tutti insieme a fare qualcosa di significativo e a progettare per il nostro futuro e per noi stessi come ci insegna Marva vorremmo chiudere qui la nostra sessione vi ringraziamo molto per essere venuti ma soprattutto ringraziamo Marva per averci dato ogni anno sangue fresco per i nostri bisogni di vampiri grazie Marva grazie Alice grazie grazie mille a tutti davvero grazie